Non solo non è morta e gode di discreta salute, ma non vuole nemmeno essere chiamata paziente zero. L'anziana del Teramano, paziente della clinica Sraffele di Sulmona ricoverata attualmente nell'ospedale di Chieti, parla per i tramiti del suo avvocato Luca Di Edoardo. Dopo il clamoroso errore della ASL che aveva inserito l'anziana nell'elenco dei decessi, stando al documento indirizzato alla regione Abruzzo su reso conto dei casi riferibili alla clinica sulmonese, la famigerata paziente si difende. Mi impongono di puntualizzare innanzitutto che la stessa non è deceduta e che in secondo luogo in alcun modo la medesima potrà essere considerata come paziente zero rispetto alla diffusione del coronavirus presso la clinica Sraffele di Sulmona, laddove il suo trasferimento da una clinica bergamasca è intervenuto in termini di assoluta sicurezza e nel pieno rispetto dei protocolli di riferimento, tant'è che il suo trasferimento è stato preceduto dall'effettuazione di un tampone che ha avuto esito negativo rispetto alla ricerca del coronavirus. La posizione delegale rimette quindi la palla al centro e arriva dopo l'arcano svelato da questa testata su falso decesso della donna dovuto probabilmente a una svista umana e burocratica. Sulla vicenda pesa una querela presentata in procura dai familiari della prima infermiera contagiata, secondo i quali agli operatori sanitari non sarebbe stato riferito che la paziente era a rischio infettivo e che quindi dovevano adeguarsi con protocolli che ne garantivano la protezione da eventuali e potenziali infezioni. Diversa la tesi delegale dell'anziana signora. L'inchiesta della magistratura è in corso. Si indaga per epidemia colpose e lesioni colpose, salvo il cambio dell'ipotesi di reato in omicidio colposo in riferimento al decesso dell'anziano di Prezza. Il fascicolo è stato aperto contro i gnoti.